La Lombardia è tra le regioni con i costi più alti degli asili nido, ma tra le città lombarde Milano risulta essere quella più economica. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Nazionale Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva nel Report 2015, che evidenzia come nella regione lombarda si è presente il maggior numero di nidi privati accreditati e la lista d'attesa tra le più basse d'Italia. Tra le città più care nella top 10 risultano Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova. Milano invece è la più economica. Il Report fa riferimento alle rette di asili nido comunale con la frequenza a tempo pieno di 9 ore per 5 giorni a settimana. La media nazionale per le rette si aggira intorno ai 310 euro. In Lombardia si arriva a spendere oltre 500 euro, ma è proprio il capoluogo di regione che riserva delle sorprese. A Milano le rette si aggirano infatti intorno ai 230 euro, assicurandosi così il primato della città meno costosa della regione e tra le città meno care d'Italia. La Lombardia è la seconda regione per numero di nidi pubblici, 597 con oltre 25.000 posti, di cui 10.000 concentrati solo a Milano, e una lista d'attesa tra le più basse che si attesta intorno al 7%. La Lombardia e Milano in particolare raggiungono un altro primato, quello relativo ad asili e posti privati accreditati, rispettivamente 1.540 strutture per oltre 35.000 posti.